Siamo con Silvia Chinellato, vincitrice di questo torneo. Allora Silvia, cosa si prova a vincere questo importante trofeo? Sono molto contenta perché era un sacco di tempo che non giocavo in Italia e tornando qui vincere questo torneo è molto importante, soprattutto perché mi sono preparata bene quest'estate per giocare un paio di tornei, quindi molto soddisfatta. Grazie e complimenti! Grazie mille! Grazie a tutti!